Purtroppo ogni tanto facciamo questa partenza qua, la cosa positiva è che mostriamo sempre grande carattere e riusciamo a recuperarla. Ovviamente i gol che abbiamo preso non sono assolutamente sottovalutare, ma ci lavoreremo perché abbiamo commesso degli errori che non bisogna commettere. Siamo partiti con un po' di difficoltà, la squadra ha giocato molto bene, forti i primi 20 minuti, abbiamo fatto fatica un po' a prendergli le misure e poi dopo quel passare della partita abbiamo ingranato fisicamente e abbiamo iniziato a spiegare il nostro gioco e quindi poi siamo riusciti a fare una grande rimonta che dà molto morale e è un bel segnale a tutti. 2-0, partita riaperta in chiusura di primo tempo con il gol di Robin Gosens e poi questa doppietta di Luis Muriel nella ripresa. Eh sì, Luis l'ha dimostrato l'anno scorso, lo vediamo in allenamento, ha delle qualità impressionanti, ha delle qualità proprio da campione, quindi lo stanno, sta lavorando molto bene, forte e quindi sappiamo che è un giocatore che ci può dare una grande mano e può fare la differenza per noi. Ci sono anche le manone di Pierluigi Gollini in questo successo dell'Atalanta a Ferrara? Penso di aver fatto un buon intervento nel primo tempo su Valotti di testa, sul gol ci sono andato molto vicino, non l'ho rivisto però l'avevo letta bene, non sempre riesce a prendere tutto, però l'importante è aver vinto oggi. Pierluigi, adesso la prossima è il Toro, ma prima c'è un appuntamento giovedì con i sorteggi di Champions. Sì, ma io ti dico la verità, non ci penso troppo, so che ci pensano già tutti, quindi sono tranquillo e curioso. Aspetterò quando di vedere chi troveremo, con chi saremo sorteggiati e poi ci butteremo dentro questa nuova avventura.